Allora andiamo a vedere adesso. Questo è sempre qua, bel maninchino, bella statuina, un po', non so, dormire per esempio, l'hanno messo così, basta, sta lì perennemente. Allora vediamo qua. Cioè non interagisce quel coso qua, non ce la fa aprire e basta. Ma questa porta qua, se non sbaglio, non si apriva nemmeno nel incontro, o forse questa sì. Quella specie di coso lì che tra l'altro sembra quasi potrebbe ricordare un vortice, no? E quindi per esempio l'oscurità, cioè il vortice del lago e l'oscurità, quindi. Poi lui ha detto che c'entra un male, però boh. non ce la fanno aprire. Mi piacciono qua i secchi senza fondo. Allora vediamo cosa... si è chiusa la porta, eh? No, la porta si è chiusa, scusa. Eh no. Cioè è mezzo corpo cos'è? Oh, si è fatto di ferro. Eh? Saga non dice nulla Niente, proprio nessun commento Questa è Cynthia, non lo penso E poi Immobile, ferma, non ha fatto assolutamente nulla A parte che noi siamo senza proiettili, come dicevo Guarda che mi sbaglio Perché non mi seleziona il fucile, scusa Ah, sì, perché l'ho lasciato giù, niente Perché dovrebbe avere paura di qualcuno Che è stato fermo a farsi sparare in testa Tutto il tempo, di un nemico Allora, questo mi fa venire in mente Che sopra di nuovo una parentesi Che piacciono tanto a Federico Che su Facebook C'è un certo punto Mi stavo mettendo a discutere con un tizio Per la I Perché praticamente Era un articolo Che il presidente Mi sembra il presidente da Take Two Diceva, ah, che bello che adesso arriverà la I Social, eccetera, eccetera E noi chissà cosa potremmo fare con questa I E io ho detto In generale la I è ferma da Da sempre, sostanzialmente, no? E quello, alla fine, è solo un marketing, no? E per farsi dire Guarda che esistiamo anche noi della Take Two, no? E vi promettiamo questo e questo Comprate i nostri giochi Perché vedrete che poi in futuro faremo questo E quest'altro E io ho detto È marketing, ok? Perché in sostanza La I nei giochi E particolarmente gli FPS è sempre quella Da non so quanto Arrivo uno Aggressivo Mi fa Ma che cosa stai dicendo? In Halo La I è differente a seconda del grado Del nemico, eccetera, eccetera Ma da Che giochi hai giocato tu? Da quanto giochi? Cioè Gli ho detto Scusa Io gioco dai primi anni 80 Non so tu Ma vedi un po' tu Cioè primi anni 80 Cioè C'è tutto C'è tutto C'è metà 80 Più di metà 80 C'è tutti 90 Ci sono tutti 2000 Ci sono tutti 2010 Ci sono tutti 2000 Cioè voglio dire E poi gli dico Ecco Lascia stare Gli ho detto esempi Tipo non so Il mitico Fear Che c'era Che ti buttava Buttava giù Come dire Se c'era una Scafalatura La buttava in mezzo Per bloccarti Oppure I ninja In Half-Life Che si nascondevano dietro I quattro pilastri Oppure Che ne so Area Tournament Ovviamente Area Tournament Che praticamente Area Tournament Non è un single player Lo sapete È solo multiplayer Però potevi giocare contro i bot Nelle mappe multiplayer Ovviamente I bot Sono stati creati Da un tipo Che si chiamasse Steven Steve O qualcosa del genere Con la P Steve P qualcosa Adesso non mi ricordo bene Che è uno Che aveva fatto un mod L'aveva fatto come mod Dei bot Per giocare Appunto Con le mappe Diciamo così Non single player Ma in multiplayer Con dei bot Ma per quei cuno Come mod L'aveva fatto No Cioè questo era in gamba C'era inventato Di mettere Nelle mappe Dei specie di binari Che tu come giocatore Non vedi E dopo Quindi che però Quindi aiutava Il pathfinding Della I Per cercarti E per poter navigare Nella mappa Ok Perché se no La I normalmente Non ce la fa Soprattutto Poi lì era Tredimensionale Quindi potevi Non so Buttarti giù Per raccogliere Non so Un health pack Giù di basso Ok Questi L'hanno assunto Questi qua Della Epic Furbamente L'hanno assunto Sì ma A parte quei casi lì Che tra l'altro Sono specifiche Perché stiamo parlando Di I Per il multiplayer Che è molto più complessa Della I In questa stanza Perché non è che questa qua Doveva essere Dove essere andata Non è che questa qua Dove essere andata In giro per il mondo No In queste Queste stanze Cioè Allora Io vi dico una cosa Un segreto In realtà Non stavo Cioè L'ho già fatta Questa parte Stavo già Dicendo un sacco Di discorsi E poi mi sono accorto Che non avevo fatto partire La registrazione Assurdo Ma ero sicurissimo Avere premuto Per farla partire Poi non l'ho guardato E quindi L'ho già fatta Questa parte Infatti sono rimasto Di M Perché chiaramente Adesso devo ripetere Il discorso Che stavo facendo E mi erano usciti bene Però ecco Stavo dicendo Ve lo dico Perché questa qua Mi ha seguito Al massimo Fino qua Cioè poi Entrata in questa stanza Con quella forma lì Tipo cerchio Se era anche Sdoppiata Cioè Sopra e sotto Perché c'è questa Sotto di lei C'era questa specie Di pozza D'acqua No? Quindi se era sdoppiata Era venuta fino a qui Ma la scena È praticamente La stessa cosa Ok Si è mossa un po' di più È arrivata qua Si è mossa un po' di più Ma Cioè qui Ho fatto una scenetta Veramente Miserrima Perché è stata ferma Tutto il tempo Però comunque Stavo dicendo appunto Niente Io ho spiegato Questa cosa E gli dicevo Lascia perdere Questi 3-4 esempi Che già da lì Dovessi capire Che ho una certa cultura Voglio dire No? Che li ho giocati Magari No? No lui Ha riattaccato Dicendo Ma cosa dici? In Appunto In Halo Sono così In Half-Life 2 Sono così E poi Qui si parlava di Di un altro tipo Eccetera C'è Ascolta un attimo Non c'è Non c'è Non capirci Uno Continui a insistere Con due esempi L'hai ampliato a due Che Praticamente Ne avevo parlato anch'io Cosa c'entra? In questi In questi decenni Quanti giochi hanno fatto? Migliaia 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 Ok Quindi non è che Perché mi dici due esempi Allora Ah è vero così Ah ecco Per l'altro esempio Ora L'hai 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 Che ti segue No? Che cerca sempre Di andarti le spalle Di Alan Wake 1 Ma Alan Wake 1 In quel senso lì Come Dal punto di vista Videoludico Dal punto di vista Dell'azione È migliaia A volte meglio di questo Ok Questa scenetta qua È una cosa assurda È peggio pure Di Di control Che già Come dicevo L'hanno fatto Per Per un presunto pubblico Incapace Con il pad Ok Quindi Lasciando perle Questi quattro esempi Che ti ho fatto Quindi Halo Fear Che poi Halo e fear Sono scriptate Cioè Quello del ninja Di Halo È abbastanza semplice Cioè Loro hanno messo Appunto Dei binari Intorno a quei Quattro pilastri E l'hai Cerca di stare Nascosta dietro Cioè l'hai Calco Di togliere La visuale Rispetto al giocatore È uno script Alla fine Ok Lasciando perle Che comunque E FPS Come ho già detto Hanno un limite Che hanno Diversi limiti Proprio insiti Cioè uno È appunto Che cosa puoi Volergli far fare Ok Cioè nel senso La I Più di stare Nascosta Cioè Allora È chiaro che oggi Non ci sono più esempi Come Wolfstein Return to Castle Wolfstein Che c'era C'era la I Che veniva a farsi imbazzare In fila indiana Stavano fermi Un secondo Ma poi Bastava stare così Braccia concerto Questi uscivano In fila indiana Tu sparavi dritto Potevi anche Non toccare nulla E li ammazzavi tutti Ok Quella cosa Lì sostanzialmente Non si vede più Ci mancarebbe Però l'abbiamo vista qua Ok L'abbiamo vista tante volte Qua Come Come gli pareva giusto Farli No Invece oggi Cercano di seguire Un pubblico Che non so se esiste Annoiando Tra l'altro Tutti gli altri No E Poi ci sarebbero Anche i RTS Ma lasciando Prendere anche Anche negli strategici Per esempio C'è una I Ma se Poi alla fine Leggete i commenti Degli utenti Su Steam Eccetera Trovate Troverete sempre Critiche C'è quel gioco Peggio degli altri C'è quel gioco Che magari È una I Molto Come dire Troppo pacifica Non ti attacca Eccetera Però anche Linei strategici La I Soprattutto È Cheating Ok Costruisce le cose Prima di te Non ha Magari Proprio Limiti di Denaro Di risorse Eccetera Quindi le gestiscono Ma le gestiscono In un'altra maniera In modo Semplificato E Sanno dove sei Sanno cosa hai Conquistato Sanno tutto E quindi Chiaramente La I Si basa su quello Sostanzialmente Ma anche lì A me Io che sono Uno che colleziona Anche quel tipo di giochi Non Raramente Si può dire Che abbiano fatto Questi grandi progressi No O che siano I non plus ultra Della I No E quindi Ho detto Lascia perdere Che mi fai ancora Questi due esempi E io ho detto Non hai capito niente E dico Che stavo facendo io Quindi io chiudo qui Perché voglio dire Adesso non so Se mi risponderà di nuovo Ma se dovesse rispondere Cancello una notifica Cancello Le notifiche Sul link E buonanotte Perché Voglio dire Innanzitutto sei aggressivo E poi comunque Non hai capito un accidente Io sto dicendo Che la I Sostanzialmente È sempre quella Ok Uno E fa schifo Mediamente fa schifo E secondariamente Non è quello che volevo dire Ma volevo dire Che queste qui Si è messo semplicemente in mostra Ok Quindi è marketing Stop E in realtà C'è da dire appunto Che Adesso cerco di ricostruire Quello che Che non ho registrato C'è da dire che poi Ci sono aziende Che oltre C'è Nel senso che Da appassionato Di game design Da appassionato Del videogioco in sé In astratto anche Anche da punto di vista Quasi artistico Filosofico Eccetera Come concetto Mi Intristisce Vedere che Effettivamente Non ci sono progressi Ma non è che Non c'è solo progressi Non c'è progressi In generale No Come ho già detto Abbiamo Bethesda Che per me Proprio il paradigma È l'esempio supremo Di Di questa Stasi No Un dinosauro Di azienda Che fa sempre Lo stesso gioco Ormai Da Da sempre Ma in particolare Si assomigliano Tutti a Oblivion Ormai È sempre lo stesso gioco Sempre le stesse inquadrature Sempre Il modo in cui interagisci Con gli NPC È sempre identico Sempre identico E soprattutto Che appunto Non finisce neanche mai Sui giochi Alla fine Perché tanto Non cura le interfacce Non cura il tutorial Non cura niente Perché non ne frega niente Perché tanto sa Che c'è una community Di Persone Che a questo punto Mi domando Se siano Veramente in sé Che gli fanno le cose gratis No Che gli sistemano Che gli sistemano L'interfazza Che gli sistemano Tutto Che sistemano I bug Ma Oh Scherziamo E Io appunto Davante Del game design Che ritiene Che Sia ora Da tempo Di fare Più crossover Cioè Di uscire Dai rigidi Schemi In cui Collocano I giochi Anche l'open world È fatto in una certa maniera Quello è fatto in una certa maniera Sono tutti troppo 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 Rigidi E appunto Soprattutto sono le grosse aziende Che fanno questo Che bloccano tutto Perché Perché vogliono andare sul sicuro Loro Non fanno appunto I giochi per passione Fanno i soldi Fanno i giochi per questi O soprattutto Diventando più grandi Queste aziende Ormai Non sono più Fatte da nerd Appassionati Della prima ora Hanno messo l'e-manager Come il famoso Riccitiello Eccetera O O Cotica Come lo chiamo io Che è quello D'Activision Che sono il peggio possibile Eppure Todd Adward Che ha raggiunto La top trend Speditamente Con Starfield Con le bugie Su Starfield E c'è andato diretto Nella top trend Della top 3 E Che Boh Cioè Riccitiello Eccetera Potrebbe vendere Salumi Potrebbe vendere Mobili Potrebbe vendere Materassi Potrebbe vendere Qualsiasi cosa No Io ne frega niente Quello che gli frega È questo Anzi Magari anche Deve essere anche Ormai Accusato di Sare De trading Quell'uomo Però appunto Non sono del settore Non sanno niente Del settore Quindi se ne escono Con The Space Track Deve essere modificato Perché Sempre lì Inseguire Un fantomatico Pubblico Che non conoscono Perché Poi ripeto Lì che ragionamento C'è Non so C'è Uno compra The Space Perché fa paura E dovrei comprare Il 3 Perché fa meno paura Ma che discorso è Cioè Un conto è rifarlo Uguale Nel senso Rifarlo Molto nella formula Senza magari Appunto Uscire Troppo dai binari Ma un conto è Stravolso Vediamo se mi ha risposto No Ok Spero che non mi risponda Più Perché Non c'è voglia Allora Dicevo Un conto è quello Ma Quindi Questi Fanno solo danni E poi Comunque L'azienda C'è L'industria In sé Sicuramente piena Ormai Di un sacco Di gente Che semplicemente Amparata A programmare Ma che se programmasse Database O programma Di Pella farmaceutica O qualsiasi altra cosa Sarebbe lo stesso Per loro Ok Quindi sono Diciamo così Nell'azienda videoludica Forse perché Gli affascinava un pochino Ma non sono Veramente appassionati Non sono magari Gente che Come dire Ci ha perso gli anni Da solo A fare cose Così come Magari capita Appunto Secondo me In parte È un motivo Per cui Ultimamente Abbiamo i giochi Non ottimizzati Da punto di vista Grafica Eccetera Che sono pesantissime Sono perché Secondo me Stanno appunto Anche lì Non ci sono Grafici Specifici Per l'azienda Videoludica Ma prendono Grafici Che sanno Lavorare Appunto Con ZBrush Miliardi Di triangoli Ma un conto È Un modello Che tu fai Solo per essere Renderizzato Quindi sta fermo Ok Oppure Viene fatto Per il cinema E quindi Magari Sono comunque Fotogrammi Un conto È una cosa Real time In real time Tu non vuoi lavorare A miliardi di poligoni Per l'albero Ah che bello Che figo Che magari Non riesci neanche Comunque a distinguere Se ne ha 10 mila O ne ha un miliardo Di poligoni Non riesci a distinguere Perché comunque Devi avvicinarti Doveste esaminarlo Bene E siamo Un'istituzione Di real time Qua interessa Il friend rate Non interessa Le slide show Ok Quindi sto dicendo È triste per me Vedere appunto Che non ci sono progressi Quindi mi viene a dire A me Ma che gioco Hai giocato Li gioco E li analizzo pure Proprio perché Io vorrei vedere Dei progressi Ma questi progressi Non ci sono Quindi quando Questi parlano È marketing È marketing È il famoso Andy Warhol È il parlare Anche male Purché se ne parli No È tutta pubblicità Che ti dicano Che parlano di te Perché sei un disgraziato Che parlano di te Perché sei un santo Anzi è molto più facile Che parlano di te Perché sei un disgraziato E poi appunto Intanto ti fai conoscere No E magari non so Ci fai pure Il marketing sopra Ci fai pure Le magliette Con scritto Sono un disgraziato Ho comprato la mia maglietta Non lo so Dico io Però Voglio dire Il discorso è questo Abbiamo questa I qua E questa Non lo so Queste robe qui Sono dettate Da reparto marketing Poi abbiamo Grossi aziende Come Blizzard Che ha perso tutto Arriva Microsoft Quando arriva Microsoft Compra sempre le aziende Che sono già morte Sono decotte Come si dice Cioè Compra Rare Quando non è più la Rare Rare ha fatto I banjo Che banjo Sono dei capolavori Ha fatto Conker Bad Fury Day E ne ha fatti anche altri Quando arrivano loro Praticamente Sono andati via tutti Non c'è più la Rare Rare è solo il nome Praticamente Idea è una Blizzard Per conto mio Il team di Overwatch 2 Praticamente Non so cosa è rimasto Del team di Overwatch 1 Ma sono andati via I fondatori Sono andati via Un sacco di design Sono andati via Quindi Cos'hai comprato Un'azienda Che si sta Per saltare in area Pur di Seguire L'ordine Appunto Di cotica Eccetera Che gli dice Dovete guadagnare Dovete fare Le micotransazioni E quindi Tutto il resto Quindi ha perso gente Che se n'è andata Perché se sarà Rotta le palle Non lo so Questo che otteniamo A inseguire Solo il soldo Io come dicevo Nell'altro episodio Cos'è la 32 33 Quello che è 33 forse Corrispondendo Quel tizio Che non sa fare La matematica Dicendo Eh ma tu Basta che alzi Il prezzo del gioco E prendi di più Ma che me frega Che mi prendi più Non voglio dare di più A Steam O chiunque Cioè voglio dire Un conto è dire Facci i giochi Per amore Per passione Per amore Un conto è dire Ma sì Che schifo i soldi Cioè nel senso Se mi entrano i miliardi Mi fa schifo E un conto appunto A dire No io Cerco di inseguire Un ipotetico pubblico Che non esiste Magari Ok minoranza E poi rovino tutto Come ha rovinato Questo scontro Questo discorso No Vabbè Chiediamo una parentesi Perché è durata Tutto l'episodio Di nuovo Ma non era lei Allora Dobbiamo ancora fare Il boss Ma non abbiamo più Munizioni Come facciamo Aspetta Andiamo la cassa Prendiamo su Altro fucile Un attimo Perché non Sì ma è folla Sta cosa Comunque Cioè Questa è la dimostrazione Che il gioco Non l'hanno Assolutamente rifinito Da punto vista ludico Non c'entra a fare Perché era qua Io adesso qua Devo qua Spezzare l'azione Perché devo andare A vedere Di prendere su Almeno Una doppietta Cioè Io qua Non so se avete idea Di che cose Che ho qua Due Quattro Sei Otto Cioè Ho qui Nove Medi kit Altre quattro Bende Quelle Saranamente Le ho consumate Munizioni Fucile Ci sono Pistola Allora Facciamo così Questo Mettiamolo qua Questo Mettiamolo qua Cioè Quindi Com'è che Loro Hanno deciso Che il loro Gioco Era Boh Difficile Pieno Di nemici Non lo so Non capisco La logica Da Dove 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 Sto Giocando Difficile Che è Il massimo Livello Che c'è Ma L'hanno Giocato Il loro Gioco E' Sempre Lì La Domanda Ma Li Giocano Si Prendono Il tempo Per Giocarli Lascia Perdere I Presunti Beta Tester Cioè Dovete Giocare Voi Che siete Designer Prima di Tutto E Vedere Anzi Per esempio Adesso Forse La mappa Non l'hanno Sistemata E' Sempre Tutto Schermo Non Non La Apri Non Zoom Dove Sei tu E' Come contro Che c'è Una mappa Gigantesca Non puoi Neanche Selezionare Il punto Il teletrasporto Che selezionarlo Di qua Non puoi Zoomarla Non puoi Spostarla Non c'è Non c'è Un cursore Dove Dire Quando Io Lo Giocavo Dicevo Mi sa E' Posso Indicare Percorsi Che avrei Voluto Fare Assumetemi Un cazzo Di progettista Di interfaccia Non lo so Non lo so Voglio dire Salvato Oggi Era Ieri Ieri Alle sette Non lo so Forse Qualcuni Di voi Non Interessano Queste Digressioni Queste Parentesi Mega Non lo so Io Credo Che Che un Appassionato Allora Questo Non ho Niente Questo Eh Mi sbaglio Sempre Questo E' Carico Il fucile Non l'ho Bindato Perché Non appare Vediamolo Qua Vediamo Poi Non lo so Io pensavo Che il boss Fosse Questo Ma non era Il boss E mi viene Il dubbio Che sia Cynthia Allora Devo usare Bengala Andiamo Un attimo Qua Poi anche Lì Essendo Mio pubblico Un pubblico Purtroppo Ancora Ristretto Mi sento Un po' Più In Un po' Più Autorizzato Insomma A fare Queste Parentesi Non lo so Pare che Poi c'è Un italiano Grosso Che Continua A fare Parentesi Tutto il Tempo Non faccio Nomi Penso Che sappiate Di chi Stia Parlando Io In realtà Lo faccio Praticamente Mai In sostanza Comunque Cynthia voleva Il disco Thor Avrebbe fatto Tutto ciò Che lei Gli diceva Ancora Qua No Sarà Sta bene Il disco Cynthia Thor Qua La presenza Oscura Ha preso Cynthia L'ha usata Per tenere Thor Lontano Da me Lo sappiamo Già Allora Vediamo un attimo I tasti Quindi il 4 Poi Facciamo un'altra Cosa Usiamo Una Bend A me Si trovo Molto Con questa Cosa Di usare 4 tasti Ma Con doppio Perché Dopo Non fai fatica A ricordarti Aspetta Non è Bend Munizioni No Scoperto In un bunker Allagato Questo è quello Che citava Pat Alla radio Il corpo Della giovane Scomparsa Quindi Cos'è un coso Nazista Questo E tra l'altro Non è ambientato In una roba del genere L'ultimo amnese Che non ho Alla fine avevo fatto Tutta la rassegna Dei primi Avevo fatto Amnese L'ultimo Penultimo Che era uscito Che comunque Era il migliore Della serie Questo Questo invece Quest'ultimo qua Invece ha preso Un po' Delle canate Insomma Quindi poi Alla fine Non l'ho fatto Però Magari un giorno Come dovrei fare Un giorno Anche Soma Che è sempre Loro Nora Esberg 15 anni La ragazza Del posto Che era scomparsa Sabato scorsa E' stata trovata Morta nel bunker Sotterraneo E chiuso Vicino A una casa Di riposo Valalla Di Brightforce Cosa c'è Il nazismo Non parlava Di un bunker Nazista C'è C'è una Sovrapposizione Quello Il senso E l'ho Seguito Distrattamente Quello che diceva Il tipo E' stato confermato L'annegamento Come causa Del decesso L'incidente Si è verificato Durante un raduno Di giovani Nel bunker La scomparsa In ora E' stata denunciata Dai genitori Domenica mattina Quando si sono accorti Che la fila Non era tornata A casa Dalla sera Prima Un'amica Della vittima Ha suggerito Alla polizia Di controllare Il bunker La tragedia Viene considerata Un incidente Dalle forze Dell'ordine Tutta la comunità Piange La scomparsa Della giovane Cioè con tutto Quello che registro Di solito Perché uno dice Ma che non controlli Se stai registrando Vi assicuro Che ho registrato Migliaia di video Quindi voglio dire E' una cosa Che è successa Tre volte In tutto Su 4300 video E altre prove Altre registrazioni Però mi è capitato E' a volte appunto Un brutto danno Soprattutto se il gioco Fosse Logan Ah si infatti Cosa è? Stiamo parlando di Logan? Aspetta un attimo Soprattutto la cosa Più grossa E' una successa Con No Qua è Nora E qua c'è Logan Invece appunto Soprattutto la cosa Più grossa E' pesante Era successa Con Tirasova Kingdom Eh Che sostanzialmente Monosave Avevo fatto Il tempio del fuoco Non registrando Assurdamente Un'ora e mezza Di tempio del fuoco Cosa ho dovuto fare Ho dovuto ricominciare Tutto il tiro su Vecchino Ho fatto una super Speedrun Per arrivare lì E poi caricare Dopodiché Continuare Ad essere C'è stata una cosa Io li odio Appunto Da punto di vista Dello streaming Li odio I giochi Monosave Ma soprattutto Ma soprattutto Su pc State attenti Alla La signora Affogata Su pc Io oltre Faccio La copia Dei save Ok Finita una registrazione Magari Apro la cartella E salvo Stiamo girando intorno Mi sa O no Vediamo se c'è l'uscita Sì Ma su console Non puoi farlo O perlomeno Cioè Sarebbe un casino Forse lo puoi fare Con la chiavetta USB Puoi copiare Ma non so Su Switch Però Però è stato veramente Un colpo Quello Sì è stato Ma ripeto Su Anche sul secondo canale Ho comunque Diversi centinaia di video Quindi vi voglio dire Sono cose rarissime Per fortuna Però Mi è capitato E c'è quel rischio lì Appunto Purtroppo In teoria potrebbe essere Un close combat Quindi teniamo Il doppiettone Un attimo Come ho fatto a salire lì Ok Qua c'è qualche stronzone Anzi no È il martello di cosa Forse Perché non me lo raccoglio Siamo pieni Oh Ok Qua è stato Qua è stato Ma il tasto Sinistro Ti fa schifo Usarlo Proviamo a usarlo Ma mi sembra Che l'avessi provato E infatti Non fa un cavolo Fai a capire Go on to sun Andato troppo presto Ok Ok lo zainetto Rip Rest in peace The wall The wall just disappeared The light did that? Uh-huh Allora Allora Grazie.